L'incidente è nel pomeriggio di giovedì 28 novembre, poco prima delle 16, sulla strada provinciale 222 all'altezza di frazione Sant'Antonio a Castellamonte. A impattare sono state due BMW. Una delle due, in seguito all'impatto, è finita fuori strada verso l'altro lato della carreggiata contro un albero che l'ha fatta rimbalzare nuovamente sulla carreggiata. I bilanci di una persona ferita in modo lieve è trasportata all'ospedale di Cornier. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte, i carabinieri di Rivarolo e Cornier per procedere ai rilievi. Disaggia il traffico in quanto la provinciale è rimasta a lungo interrotta alla viabilità. Grazie. Grazie. Grazie.